buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 21 marzo 2024 primo giorno di primavera iniziamo la bella stagione ci sono già i fiori nei peschi nei mandorli le mimose sono fiorite da tempo insomma c'è un nuovo risveglio della natura e ci avviamo verso la buona stagione con questo augurio iniziamo questa settimana e vediamo qual è il santo del giorno attraverso l'almanacco eccolo qua è un santo si diceva che il 21 marzo si festeggiava san benedetto beh lo si festeggia ancora oggi ma noi oggi abbiamo un santo più poco conosciuto più sconosciuto diciamo così si tratta di san serapione di tumuis che visse nel quarto secolo tumuis è una località dell'egitto ebbene serapione visse in egitto per molti anni e per molti anni li passò anche nel deserto poi fu nominato vescovo della sua città di tumuis punto fu mandato in esilio dall'imperatore costanzo secondo e fu un ezzelante difensore della fede e uomo di grande cultura così lo ricorda ancora oggi la chiesa dei suoi annali ed ora vediamo le previsioni del tempo oggi abbiamo una giornata solleggiata con le nubi in aumento in serata le temperature massime fino a 21 gradi la minima si è testata a 9 gradi durante la notte nell'entroterra venti deboli o moderati e da direzione di ovest sud ovest nelle coste invece da nord est e temperature sono in calo il sole è sorto alle 6 e 08 e tramonterà alle 18 e 20 detto fatto questo preambolo vediamo i giornali apriamo il corriere adriatico questa mattina e vediamo un importante delibera che è stata posta all'ordine del giorno del consiglio comunale di ieri sera ovviamente si parla di fano è stato approvato il paek ovvero il piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima ci sono cambiamenti climatici c'è la siccità che dura anche durante l'inverno c'è l'innovazione tecnologica il problema della tutela ambientale ebbene tutto questo è stato riassunto e trattato dal paek un piano che dovrebbe porre anche il comune di fano in una situazione di risparmio di consumi e che dovrebbe raggiungere il 55 per cento entro il 2030 ebbene una serie di previsioni di norme messe in un piano che è stato redatto dall'assessorato all'ambiente con la collaborazione di una ditta l'enereco un piano composito un piano che abbraccia molti molti settori ed è un piano molto molto attuale si parla della individuazione delle strategie utili per obiettivi importanti come far fronte all'andamento climatico che sappiamo è molto anomalo rispetto al passato molte le precipitazioni violente evidenzia le aree a rischio frana censisce gli abitanti residenti in queste zone sensibili e fa lo stesso per le aree a rischio esondazione in modo particolare l'area più rischiosa è quella del metauro il tratto che va dal ponte dell'autostrada alla foce e poi analizza i rischi i rischi idrico neve nubi fragi grandinate e incendi rileva i consumi elettrici di scuole e fabbricati comunali per cercare di ottenere un risparmio e il giornale evidenzia come la struttura comunale che consuma di più è la memioteca montanari e qui infatti vediamo la sua fotografia con la memo scritta con la luce sulla facciata. È un piano importante che poi viene trasmesso da questa giunta lo ha elaborato l'assessore all'ambiente di Corrafattori alla prossima tornata amministrativa. E sempre al problema ambientale si riferisce quest'altro articolo pubblicato a fondo pagina dal Corriere Adriatico per quanto riguarda una legge approvata dal Consiglio regionale firmatario Luca Serfilippi. Il promotore Serfilippi segnala i vantaggi di una nuova legge regionale che dice stop al fotovoltaico e ai container di accumulo nei campi, quelli che insomma degradano un po' anche dal punto di vista visivo, estetico, l'agricoltura, il paesaggio della nostra regione. Quindi una normativa che fa cessare tutto questo modo troppo liberale di utilizzare i campi per fare queste distese di pannelli fotovoltaici. Ed ora diamo invece notizia della notizia che è un po' più interessante dal punto di vista della campagna elettorale. C'è un ritiro. Un ritiro. Il candidato De Leo getta la spugna. Ora non ci sono più le condizioni, ha detto e ha ritirato la sua candidatura. Ammareggiato dall'esito del confronto con il centrodestra che punta su Serfilippi. Pensava di farsi promotore di una candidatura per il centrodestra. Poi ha visto che non c'erano le condizioni e ha cercato di fare da trainer per il centrosinistra, ma alla fine ha dovuto rinunciare a tutto. Giuseppe De Leo si ritira dalla campagna elettorale per le elezioni amministrative del prossimo 8 e 9 giugno. Mi faccio da parte, è scritto in una nota conclusiva che è stata diffusa nella giornata di ieri. Mi faccio da parte. Il passo indietro nasce dall'aver preso atto con realismo che non si sono create le condizioni per competere con le coalizioni. De Leo insomma si faceva promotore sia della destra che della sinistra per cercare di avere un candidato che non fosse immerso nei partiti e fosse un uomo libero ancorato al territorio. Questa era la sua premessa. Ed ora anche un'altra bella notizia che insomma evidenzia come fanno a mille sorprese, basta che si gratti un po' la sua superficie. Emergono due pavimenti, l'edificio di età romana, si approfondiscono gli scavi in piazza Andrea Costa, la piazza del mercato, in quel settore dove già nei giorni scorsi è venuto alla luce un piccolo cimitero, diciamo così un'area sepolcrale di tipo mediovale, ma soprattutto edifici di origine romana con pavimenti in opus spiccatum, ovvero che pavimenti a spina di pesce che qui vediamo in questa fotografia. ora andando più in profondità, all'inizio si pensava di grattare appena la superficie, ma dopo ho visto i ritrovamenti si è andati più a fondo, ebbene si sono trovati altri reperti importanti e anche questa volta gli archeologi hanno trovato un sito estremamente sensibile. dopo il trovamento dello scheletro della mamma con il bambino che stringeva al seno ed un edificio di età romana, altre cose interessanti sono venute alla luce. C'è anche una dichiarazione dell'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori, la quale dice che durante le operazioni di rifacimento della pavimentazione di piazza Andrea Costa, sono stati rinvenuti nelle ultime operazioni di scavo per i sottoservizi più ambienti appartenenti ad un edificio di età romana, che presentano ancora parti cospicue di pavimentazione antica. Ora si tratta di capire a che cosa appartengono questi reperti se è una domus privata, se è un edificio di carattere pubblico, siamo a due passi dal foro, almeno da quell'area che è considerata foro, perché ancora delle tracce probanti non sono state trovate, ma basterebbe scavare, non so, magari anche nella piazza davanti al Politeama per trovare senz'altro qualcosa di molto, molto interessante. Vediamo le altre notizie, vediamo a Pergola, il sogno di Rebel House, questa associazione che movimenta la cultura dell'entroterra, il centro a Pergola, a priori siamo contro l'apatia di chi non vuole cambiare, insomma sono molte le iniziative fondate e realizzate da Mattia a priori con Serena Pierfranceschi, fondatori di Rebel House, questa associazione a Pergola. E poi c'è un focus sul conte verticali, polemico, vitali. Ebbene, questo siamo a San Costanzo, San Costanzo c'è una grande fervore di iniziativa, perché anche San Costanzo fa parte di quella settimana della cultura ancorata con peso. Ci sono molte, molte iniziative, la cultura prima di tutto. Ebbene, e poi c'è anche la gastronomia. Ebbene, con la degustazione letteraria della biblioteca Don Antonio Betti, hanno preso ufficialmente il via lunedì scorso, lunedì sera, gli eventi per San Costanzo, capitale della cultura. Il sindaco Sorcinelli, per l'occasione nelle veste di sommelier, anche questo è una bella raffigurazione del primo cittadino, ha introdotto i presenti ai gusti e ai sapori dei vitigni pregiati delle cantine locali. Ebbene, anche il sindaco si fa promotore dell'enogastronomia, che è una componente importante dell'economia. Non è una cosa superficiale, è una cosa da coloro che godono della buona tavola. In realtà è un dato importante perché fa lavorare le aziende, produce reddito e quindi attira anche persone da altre località e fa un po' lavorare tutti. Vediamo anche la pagina di Senigallia, dove si parla ancora, ed è la terza volta che appare sui giornali, quell'annuncio sessista di un barista che voleva assumere delle donne che non avessero un'età superiore ai 38 anni. Ebbene, questo non si può fare perché la legge dice che non puoi scegliere uomo o donna, ma devi dire che si assumono dipendenti e poi anche l'età sembra che sia una limitazione proibita. L'annuncio sessista, caso isolato, rivolgersi a persone qualificate. C'è un intervento di Petrini, della Confartigianato di Senigallia, che dice che occorre un tavolo per monitorare tutti gli aspetti del mondo del lavoro. È un Stato, un membro della famiglia, un ragazzo, forse uno dei più giovani di questa famiglia che gestisce il bar di Tre Castelli, a fare l'annuncio. In realtà lui probabilmente non sapeva nemmeno della legge. Ora si tratta di non ingigantire questa cosa perché poi non è che è stata fatta con la volontà di punire questo o quell'altro sesso. Insomma, si è cercato di uniformare le esigenze della ditta con quello che offriva il mercato. Jonathan, scivolata fatale dal tetto, figlio mio vorrei riabbracciarti, è l'appello straziato della mamma di questo ragazzo di 15 anni che salendo nel tetto di un'abitazione voleva fotografare il cielo. Aveva 15 anni, è caduto di sotto ed è deceduto. Purtroppo è accaduto questo a Grotta Azzolina, il dolore della mamma, il quindicenne voleva fotografare il cielo, lutto cittadino. Oggi l'addio a questo ragazzo ed è il cordoglio, il cordoglio di tutti gli amici, fiori sul banco, lo shock al liceo scientifico. Purtroppo una morte improvvisa, una morte atroce, non si può morire a 15 anni. Veniamo ora alla pagina di Pesaro che dedica il Corriere Adriatico, si tratta della raccolta dei rifiuti e c'è veramente un giro di vite nei confronti dei furbetti, dei furbetti che non pagano l'Atari. E già tutta poi l'installazione dei cassonetti intelligenti ha permesso anche agli ispettori di individuare coloro che non pagano gli evasori dell'Atari. In centro gli ispettori ambientali scovano 167 utenti che non pagano la tassa. Ebbene, dopo quasi due mesi dall'avvio delle isole informatizzate, sono oltre 85 mila gli accessi ai 23 cassonetti nel perimetro della ZTL, circa 1.700 conferimenti al giorno. Le eco-isole più utilizzate sono quelle di via Barignani, via Ventura, con oltre 7 mila accessi. Seguite da Piazza del Monte e via Varese con oltre 5 mila, dati alle a mano, ha illustrato il rettore della funzione ambientale Franco Marco, i maggiori conferimenti riguardano indifferenziato per il 30%. Insomma, ci sono anche i furbetti delle eco-isole. Sono stati 167 che non versano la tassa dei rifiuti intercettati e già segnalati all'Aspes. Sono stati tutti trovati. Giriamo anche la pagina. Vediamo che non si trovano muratori nei cantieri per la formazione di 18 giovani migranti. C'è un protocollo che è stato firmato anche con la presenza del prefetto, che insomma incentiva anche l'assunzione dei migranti per fare i muratori. Probabilmente è un mestiere che gli italiani ormai snobbano. Si finge un indipendente delle poste per spaventare e truffare un'anziana o un 25enne arrestato dalla polizia per estorsione. Tua figlia è nei guai, devi darmi denaro e soldi. Aveva detto che la figlia aveva contratto molti debiti e sarebbe finita male se la mamma non fosse venuta in suo aiuto e la donna ha consegnato soldi e gioielli a questo giovane nel che si è finto una persona che ovviamente non era. Vediamo ancora la pagina. Vediamo la pagina di Urbino dove si parla dell'inaugurazione della nuova forma della sogesta. Un nuovo campus scientifico sarà il polo dell'innovazione. Il rettore dell'Università Bo di Urbino interviene sul valore dell'accorpamento dei laboratori di ricerca. È stato inaugurato il nuovo campus scientifico intestato ad Enrico Mattei, ex sogesta, alla presenza delle autorità politiche e religiose. Si tratta di un grande hub dedicato esclusivamente alla ricerca. L'Università di Urbino si distingue molto nella ricerca. Ricordiamo anche tutti i laboratori di biotecnologie agroalimentari che si sono così realizzate nella città di Fano e che sono pienamente operativi. Ed ora passiamo dal Corriere Adriatico al resto del Carlino. Vediamo l'apertura dedicata agli scavi di piazza Andrea Costa. Le sorprese non finiscono mai. Dopo gli scheletri ecco i pavimenti romani. Sono emerse superfici mosaicate e in cotto. Abbiamo visto che sono a spina di pesce e poi anche mosaici. Quindi sono dei mosaici che poi sono stati così frammentati durante l'epoca medioevale quando tutta l'area ha avuto un'altra destinazione. Probabilmente una destinazione più degradata rispetto all'epoca romana anche se siamo in centro storico ma che dimostra poi come nel Medioevo insomma c'è stato un declassamento di quello che era la funzione dell'antica Fanno Fortuna. L'archeologa, la Venanzoni, che è la responsabile del settore Ancona e Pesaro della nostra regione doveva essere un edificio di un certo lustro. E sarebbe interessante capire magari da qualche reperto, non dico dei cocci, monete oppure altre cose, magari ci fosse una lapide, capire a che cosa apparteneva appunto questa costruzione. Verso il voto De Leo Abbandona hanno vinto gli interessi dei partiti. L'esponente dell'area civica esce di scena. Prendiamo atto che non ci sono le condizioni per competere, ha dichiarato l'ex dirigente del Comune, stato direttore generale del Comune di Fanno. Aveva cercato intese con il centrodestra e poi posto come mediatore nel centrosinistra. Ci sono anche delle dichiarazioni che i giornali pubblicano. Il resto del Carlino evidenzia come De Leo abbia detto mi faccio da parte e auguro una buona campagna elettorale a tutti auspicando che chi vincerà le elezioni amministri con capacità ed onore nell'interesse esclusivo dei cittadini. Una risposta tra il centrosinistra e Marchegiani che è il candidato dei progressisti. Marchegiani al ballottaggio contro la destra ti sosterrei. Tu faresti lo stesso con noi. È un rilancio che fa Samuele Mascarin. Sappiamo come il tutto è nato da Fanesi che aveva detto a Marchegiani che l'avrebbe contattato subito dopo la nomina se l'avesse avuta dopo le primarie del 7 aprile. Marchegiani ha risposto che forse sarebbe stato troppo tardi e ora Mascarin rilancia. Insomma, quando poi c'è il ballottaggio, magari io sostengo te e tu avresti fatto la stessa cosa con me. Sono un po' questi mandi e rimandi di una campagna elettorale che si trascina abbastanza da diverso tempo. Così Chiara serve cocktail per cani. Questo è un articolo interessantissimo perché è originale. Ebbene, Chiara Paci ha fondato un aperibau. Un aperibau è un luogo di aperitivi per cani. Si tratta di un'idea della 43enne fanese che ha allestito il suo giardino come un bar. Ecco che cosa proporrò. Ebbene, vediamo di che cosa si tratta. Si chiama Aperibau e rappresenta un nuovo modo di fare la dog sitter. Abito una casa abbastanza grande, ha detto, che ha anche un bellissimo giardino. Ed è qui a Sant'Orso che nascerà appunto Aperibau. Pensavo di iniziare con 4 o 5 cani per volta in modo che stiano insieme, giochino e socializzino mentre io li tengo d'occhio uno ad uno. E poi se ci sarà un cane un po' poco socievole, poco compatibile, ebbene ci sarà la possibilità di metterlo in un box in cui potrà comunque stare bene e fare il suo bel aperitivo. Pensate che bella idea. È una cosa che evidenzia prima di tutto l'amore per i cani e poi anche un servizio così un po' diverso rispetto a quelli che si trovano nella nostra realtà. Passiamo a San Costanzo, dove anche qui c'è campagna elettorale, ovviamente, e vediamo che il competitor di Stefanelli è Carboni, Domenico Carboni. Domenico Carbone, scusate, 26 anni, laureato in giurisprudenza, consigliere comunale di minoranza, uscente, consigliere provinciale, scioglie le riserve e ufficializza la sua candidatura a sindaco di San Costanzo in competizione con il portacolori del centro-sinistra Michele Stefanelli. Michele Stefanelli è un personaggio storico della politica di San Costanzo, ora avrà di fronte a lui Domenico Carboni. Pane nell'indifferenziato, nessun accanimento, così Aset replica alla cittadina che aveva ricevuto una multa di 150 euro perché gli ispettori avevano trovato del pane abbrustolito nell'indifferenziato, doveva essere messo nell'umido. Gli ispettori hanno fatto il loro dovere, così dice l'Aset. Comunque sembra un pochino che punire una donna con 100 euro per delle briciole di toast bruciato in un sacchetto per il ministrone finito nell'indifferenziato è un po', non lo so, forse un po' troppo severa, oppure è così, dice la legge. Anche il resto del Callino pubblica l'articolo della inaugurazione del nuovo laboratorio per la ricerca a Sogesta, Laboratorio Universitario, siamo nella pagina di Urbino. La Sogesta diventa il campus dell'ingegno, aperti prima i primi 5.000 metri quadrati di laboratori. Ne rimangono da finire altri 7.000 per un investimento complessivo di 20 milioni di euro. L'Università Carlo Bo sa rinnovarsi e sa camminare al passo con i tempi. E poi per quanto riguarda Urbino si parla dell'ospedale, si parla in modo particolare di ortopedia che si potenzia, nuove attrezzature per gli interventi. Dal prossimo mese si aprirà un ambulatorio specifico anche nel Monte Feltro a Macerata, Feltria. Per la direttrice dell'azienda sanitaria territoriale Nadia Storti ci sarà molta più attenzione alla traumatologia sportiva che spesso ha a che fare con molti incidenti che si verificano durante le partite. E poi vediamo in quest'altra pagina, parliamo di Pasqua, oltre 400 figuranti per la processione a Cagli. Cagli ha un'antica tradizione per i giorni pasquali con la processione delle confraternite. Un bellissimo spettacolo dal punto di vista coreografico ma anche dal punto di vista della fede. E con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa. Io vi do appuntamento come sempre da domani alle 7 e per le notizie del giorno alle 20.30 di questa sera con il Tg Occhio alla Notizia di Fano TV. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie.